Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV al nostro consueto appuntamento del mattino con la rassegna stampa. A occhio ai giornali che anche questa mattina è pronta alle 7.30 in diretta ad informare i suoi tantissimi telespettatori che con affetto ci seguono e ci seguite. Grazie davvero ogni giorno per iniziare la giornata informati. Quando uno esce di casa informato è già a metà dell'opera. Allora cominciamo con il santo intanto. Cerchiamo di sapere che santo è oggi. Oggi è San Tommaso Placido da Cori, morì nel 1721. Il sole è sorto alle 7.40 e tramonterà alle 16.52. Oggi avremo un cielo nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Residui fenomeni limitatamente alle prime ore di questa mattinata. Le temperature sono ancora in diminuzione. Siamo a un grado a quest'ora ma più o meno la temperatura rimarrà così anche nelle prossime ore. I venti di brezza tesa da settentrione. Per la giornata di domani. Domani avremo una pausa dal punto di vista meteorologico. Non ci saranno precipitazioni. Anche il freddo, le massime, vedete, sono in aumento. Quindi dovremmo un attimino un po' alleggerire la morsa. La morsa del freddo dovrebbe alleggerirsi. Mentre venerdì ecco di nuovo il tempo brutto con tanta pioggia sulla costa e pioggia mista neve nei monti. Il che significa se piove sui monti e se il limite delle micate è attorno ai 1500 metri. Anche se in calo in serata. Venerdì però comunque significa che le temperature sono ancora in aumento. In particolare anche nei valori minimi. Poi che cosa succederà? Succederà che dalla prossima settimana, da lunedì, c'è questo ingresso di una saccatura alimentata con aria artica che determinerà un nuovo peggioramento per il fine settimana e soprattutto lunedì quando arriverà di nuovo quest'aria molto fredda che, stando agli esperti, porterà la neve ancora sull'Italia e prenderà, se i modelli vengono confermati, anche la parte settentrionale della regione Marche. Cominciamo adesso a leggere i giornali. Il resto del Carlino in prima pagina sull'edizione di Pesaro mette il progetto di Via dell'Acquedotto che secondo appunto questo progetto diventerebbe come i Navigli di Milano un progetto che è arrivato solo 81esimo ma il sindaco Ricci rilancia, dice verrà finanziato entro l'anno ed ecco come sarà. Riscossione tributi, è crisi vera, Duomo GPA perde altri comuni. In Valmetauro cambiano in tanti per i ritardi nei versamenti, un settore dunque da rivedere. Poi c'è la cronaca, la vedremo tra poco e il pungiglione di questa mattina è tutto per il sindaco di Pesaro Ricci. Il sindaco Ricci ha cominciato l'anno come lo ha definito dicendo alla sua maggioranza la nostra unica opposizione è il Carlino, cioè il giornale e subito ha rilanciato con la consueta comunicazione e pensare che le tante cose giuste che fa le annega negli annunci senza respiro. Una pausa maestro, questo è il pungiglione del Carlino. La pagina di Fano invece, andiamo nelle pagine interne, dunque sfogliamo il giornale. Eccola qua, via Cavour, il problema tra l'amministrazione comunale di Fano e i commercianti di questa via che temono con la pedonalizzazione di perdere clienti e di conseguenza anche dunque gli incassi e quindi temono per la propria attività. Il fossato negozianti giunti si allarga, i primi se chiudete passano soltanto gli autorizzati cioè quelli che abitano in via Cavour e con il loro bel permesso poi possono fare quello che vogliono e quindi a rimetterci ci sono i clienti, quelli che parcheggiano lì 10 minuti, poi ripartono e quindi un commercio un po' mordi e fuggi. Il sindaco però rassicura i commercianti, dice le decisioni verranno condivise e dunque nessuna fuga in avanti. Nella fotografia vedete, oltre a via Cavour durante il periodo natalizio, c'è anche qui pubblicato il momento alle 19.30 dell'altra sera, un momento dell'incontro che appunto la Giunta ha avuto con i commercianti. Capecchi e Pettinelli dicono ci sono o no altre priorità. Comunque prima di pedonalizzare via Cavour ricaviamo l'area del parcheggio e quindi lì si pensa e si punta ancora all'area dell'ex Agip che però il Comune non vorrebbe solo per le auto. A Ponte Sasso invece sono tutti preoccupati per l'arrivo di 32 migranti, 32 profughi che verranno ospitati all'interno di una ex colonia che tra l'altro sarà ristrutturata dalla cooperativa Labirinto solo per la parte necessaria ad accogliere i 32 profughi e la loro ospitalità sarà a carico del Ministero dell'Interno. Dunque i residenti sono in allarme, come dicevamo anche qui riunione, vedete nella fotografia gli abitanti dicono prevediamo pericoli per la stagione turistica ancora una volta siamo noi di Fano Sud a subire le scelte sbagliate. Poi a Lucrezia nel 2014 ci fu un assalto all'ufficio postale che si trova vicino alla Flaminia un assalto bello imponente guardate la fotografia utilizzarono addirittura un camioncino sfondarono la parte laterale di questo ufficio la gang dei fucili a pompa adesso è stata però individuata non presa, catturata ma individuata sanno esattamente chi sono e che cosa hanno fatto quali sono le responsabilità a cui dovranno dare una risposta il berretto in Chioda e il Bossa saltarono le poste di Lucrezia e anche a Gallo di Petriano ma il ris dei carabinieri dimostra che sul posto il capo c'era oltre a lui indagato anche il basista che è di Fossombrone e ci sono state insomma indagini piuttosto complesse dei carabinieri di Fano che poi hanno diramato, hanno allertato un po' Mezza Italia per dare la caccia a questi rapinatori andiamo adesso sull'altra pagina invece perché a Pesaro è successo un fatto che potrebbe anche far sorridere ma in realtà c'è poco da ridere toc toc, due cinghiali bussano alla porta paura, è successo nella notte in una casa di Castel di Mezzo sono stati chiamati i carabinieri vedete Giombetti ha illustrato un po' le varie fasi di quello che è accaduto i cinghiali che hanno fame sognano e pensano il pollo e gli spaghetti i due coniugi a letto che sentono bussare pensano in realtà che siano i ladri e quindi chiamano i carabinieri quando arrivano i carabinieri tutti insieme si accorgono che in realtà a bussare erano stati due cinghiali e ironicamente Giombetti nella sua vignetta come sempre la butta sull'ironico e dice non scappate e il capofamiglia pensa già ai cinghiali con il limone in bocca, belle succulenti su un piatto servito per la cena la partenza dei saldi invece è buona ma soltanto per metà negozianti parliamo di commercio la Confesercenti fa il punto Borgiani dice la data è il frutto di un compromesso resta dunque la boccata d'ossigeno perché sappiamo un po' già tutti quanti che quelli di Natale insomma non sono andati gli affari non sono andati un granché almeno stando a quello che dicono i commercianti a Urbino invece ecco il pronto soccorso nuovo nuovo di Zecca realizzato nella città Ducale quindi il pronto soccorso dell'entroterra presentato ieri in anteprima oggi ci sarà l'inaugurazione ufficiale sarà in funzione però da venerdì e vedete le immagini dove tra l'altro c'è oltre al sindaco di Urbino Gambini c'è anche il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli con il primario dell'ospedale insomma il direttore e quant'altro siamo 5 medici dovremmo diventare 13 parla il primario Filippo Mezzolani lo vedete in questa fotografia se avete se volete vedere anche le immagini vi ricordo che alle 11 e alle 13.30 c'è la replica del Tg c'eravamo anche noi a questa inaugurazione adesso andiamo invece sul Corriere Adriatico la pagina di Fano anche qui in primo piano la pedonalizzazione di via Cavour i commercianti schierati contro il Comune primo confronto con la Giunta Comunale senza traffico tante attività muoiono questa è la preoccupazione ma con la qualificazione della strada prevista quest'anno sarà inevitabile la chiusura alle auto come è avvenuto altrove la Confcommercio indica altre priorità di intervento da via Cairoli a Piazza Costanzi un'ampia area di sosta nell'ex convitto Vittorio Colonna sul modello della caserma Paolini l'idea suggerita dai democratici fanesi non è penso tutta da buttare via bisognerebbe in effetti guardare bene e fare due conti assalti alle poste invece anche qui la cronaca con un camion a riete sono immagini del febbraio del 2014 a Lucrezia di Cartoceto sono stati incastrati il capo e il basista della banda chiuse le indagini e decisivi i riscontri investigativi scientifici e scientifici dei carabinieri il boss è di Cerignola ma ha molti parenti a Fossombrone e gli indizi sono stati trovati a Lucrezia anche qui vedete la notizia di spalla di questa riunione a Ponte Sasso contro l'arrivo di 32 profughi alloggiati nell'ex colonia che suscitano timori soprattutto per il turismo e poi a pagina 42 del Corriere Adriatico ecco i fondi per l'efficienza energetica dei capannoni finanziato fino all'80% dell'investimento venerdì c'è un seminario sui bandi della Regione come imparare a fare la pasta della nonna l'esercizio che si trova in Via Cavour organizza lezioni serali con degustazione finale e poi dalla Valle del Cesano un laboratorio per filmmaker il miglior video secondo la CEI cioè la Conferenza Episcopale Italiana il concorso nazionale è stato premiato il lavoro della parrocchia di Santa Giustina siamo a Mondolfo assegnato un premio di 1000 euro lo scopo è favorire la scoperta e la promozione dei talenti poi andiamo sull'altra pagina quella sempre della Valle del Cesano siamo a Piagge la grotta del mistero luogo d'arte e tipicità la valorizzazione del complesso ipogeo affidata all'associazione locale Pro Art vedete in questa fotografia un'immagine della grotta del mistero di Piagge tra l'altro l'ha visitata il nostro balestra per farne un servizio qualche mese fa e mi ha detto era davvero molto bella ed è una scoperta dell'architetto Polverari il suggestivo ambiente ospita già le opere di Agra l'idea del leno gastronomia è un'idea sulla quale si sta lavorando e si sta pensando manutenzione del verde Mondolfo si fa bella apprezzamento per i lavori avviati dal comune campo sportivo da recuperare ancora siamo in chiusura Senigallia niente causa il comune risarcisce l'ex dipendente accordo tra le parti sulla base di 12 mila euro ma ci sono altri contenziosi aperti e poi da Fossombrone cara giunta quanto mi costi guerra di cifre sulle bacheche Fossombrone i 5 stelle rivendicano tagli per l'opposizione solo lievi aumenti invece alle spese il battibecco spopola tra vecchi annunci e numeri discordanti sul bilancio pubblico del comune appunto di Fossombrone in questa immagine vedete oltre a uno scorcio della sede del comune in fondo al corso ma c'è anche la foto del sindaco Gabriele Bonci sindaco 5 stelle ci fermiamo qui con l'informazione la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 questa sera invece abbiamo come sempre il telegiornale 20.30 e vi ricordo ancora una volta che domani giorno per noi giorno X possiamo definirlo così è la giornata in cui faremo il cambio di rete dunque l'attuale rete verrà spenta ne riaccenderemo una nuova che coprirà e illuminerà tutta la regione Marche dunque Fanno TV diventa emittente regionale è necessario per alcuni televisori risintonizzare il decoder oppure appunto il televisore stesso laddove non si fa in automatico durante la notte ma per avere la certezza di non dover far nulla e quindi lasciare tutto com'è intorno a mezzogiorno o comunque fino alle 2 del pomeriggio guardate sul canale 17 se Fanno TV si vede non dovete fare nient'altro vuol dire che ha fatto tutto da solo e avete un televisore straordinario in altri se invece il segnale non dovesse esserci intorno alle 2 del pomeriggio allora significa che bisogna risintonizzare il televisore da capo oppure il decoder ok? comunque noi siamo qui se avete bisogno il numero di telefono lo conoscete 86 14 33 vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera e ci vediamo stasera